Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Incredibile colpo di scena sul palco di Iocanto Generation. Durante la finalissima del 27 dicembre 2023, infatti, ha fatto l'ingresso, trionfale, uno dei più grandi interpreti italiani di tutti i tempi. L'emozione di Jerry Scotti, del pubblico e dei giovani partecipanti al talent show. Infatti nessuno si sarebbe mai aspettato un ospite di questo calibro, che di certo non si vede spesso in TV e nei programmi generalisti. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire al meglio cosa è successo. Come abbiamo già raccontato, a trionfare è stata Marta Viola, del team di Benedetta Caretta. La giovane ha battuto la concorrenza, Sofia Leto si è piazzata al secondo posto, seguita da Daniele Mattia Inzucchi al Terzo. Marta, una grande cantante di 14 anni proveniente da Torino, ha ringraziato la sua famiglia, i coach vocali e il pubblico per il sostegno. Durante la competizione, ha impressionato con le sue interpretazioni di My Art Will Go On di Celine Dionne e di Sole ed Azzurro di Georgia. Marta ha duettato con Benedetta Caretta nel brano Surrender e All By Myself di Eric Carmen. Marta, oltre al trofeo, Marta si porta a casa il biglietto per il Summer School Academy di Canto, cinema e filmmaking presso la New York Film Academy di Firenze. Marta ha anche vinto il premio tecnico giuria e radio che le permetterà di registrare una cover a sua scelta in rotazione su R101. Ma il vero colpo di scena è stato un altro, ha detta di molti. Tutto è capitato dopo che Lorenzo Sebastiano, con 43 punti, si è collocato al quinto posto, risultando tra i tre concorrenti eliminati. Grande delusione del ragazzo che tuttavia ha ricevuto un regalo che non dimenticherà mai. Così, prima di congedarlo, Jerry Scotti gli ha chiesto di eseguire i migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Ed ecco che durante la sua esibizione, è apparso il messaggio in sovraimpressione, Lorenzo sta per ricevere una grandissima sorpresa. Proprio così, Renato Zero è salito sul palco, improvvisando un emozionante duetto con Lorenzo. La commozione è stata palpabile e Lorenzo non ha potuto trattenere le lacrime, mentre Renato ha concluso la canzone. Zero ha poi raccontato di essere stato contattato da Roberto Cenci, il regista, perché c'era un giovane talento che gli ricordava se stesso a quell'età. Un ricordo che Lorenzo ricorderà per sempre, dice Jerry Scotti al pubblico. E ha ragione.